con marco abbiamo pensato di fare una mattinata in questo bellissimo spot dove l'anno scorso abbiamo preso dei bei barbie la stagione buona la giornata è buona dovremmo prendere qualcosa senz'altro ci vediamo dopo ho fatto tempo da arrivare e marco già un pesce in canna e non sembra male non collaborerà forse ha deciso di fermarsi lui ha deciso lui di qua deve essere un pesce come il primo che ho preso si cosa di lusso vediamo se ha mollato un poco ho sospeso 5-6 minuti la ripresa perché proprio non veniva adesso sta arrivando l'hai visto ecco grande barbo proprio grande barbo sempre uno di quelli che non riesco a prendere in mano ma no dai ci riesco allora due e mezzo vediamolo eh si è proprio un barbone di lusso tienimelo lì un secondo che ti allargo si si veramente bello siamo qua veramente bello come puoi io proprio qui sotto il mio naso solo che non riesco a arrivare in pesca e marco ma li sta stencando uno dopo l'altro sotto il naso ogni tanto devi fu soffrire si no no ma per carità oggi faccio volentieri anche il cameraman marco proprio la volta scorsa sarebbe fatto da badante quindi non stipendiato assolutamente ci vorrà un po' di pazienza anche con questo sta venendo eccolo lì si si mi sta vestendo si però lottano alla grande proprio ho sospeso ancora per 5 minuti ma non molla proprio c'è lo qui sotto i piedi eccolo lì l'ialeggiante vediamo un poco no 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 proprio hai di quelli di quelli incazzati dai 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 che si molla un po' vediamo qui sotto i piedi proprio vediamo un po' se si vede no non l'ho visto marco è tornato giù no no proprio guarda di niente non lascia il fondo proprio il guadino gli do una guadinata ai 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 una guadinata gli do dai che so esce bello bello molto eccolo lì fuori ecco perché dopo avergli dato una botta sono riuscito a guadinarlo ancora un grosso barbara proprio a me si qui abbiamo il grande raff mostriamo la piega della grande canna devo proprio dire tutta la verità alla terza passata uno l'ha attaccato ma ha avuto una dimenticanza senile hai detto bene dimenticanza senile Marco si è solo scordato di aprire la frizione ma sono dettagli questi qui i piedi di fuoco ed eccolo qua in arrivo Vediamo un po' se si alza, percorrere tutto mi ha fatto pasturare da lui e poi adesso mi dice anche di venirlo a guadinare e a fare il cameraman, siamo pronti per guadinare il guadino si perché qui la ripresa poi non so com'è andata vai bel pesciotto su questa qua raffaello questa non me la dovevi fare mi ha seduto un bastone da sotto i piedi e ho detto non mettere i piedi sul bastone però e lui no adesso non so se trasmetterà il filmato integrale però questa sarebbe da mettere perché sarebbero i classici highlights dunque interrompiamo perché eccoci qua dopo io ho pescato un paio d'ore e ne ha fatte di tutti i colori lui continuerà la giornata e sono sicuro che farà un gran cestino vai avanti o ti sposti? no 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 vado avanti qua finì che ce n'è a costo di farmi venire a prendere da un'ambulanza con la schiena bloccata visto il ritmo che c'è se continuano andiamo bene per me la giornata è andata bene vado a lavorare tranquillo domani vieni qui sì domani torno ti faccio la crocettina nell'acqua i pesci sono lì sono lì saluti saluti a tutti saluti 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 Grazie.